Vincenzo Renzini, com'è che è nato questo intervento? Questa iniziativa è dovuta all'impianto del palazzetto dove ci troviamo, che sul retro aveva dei campi non completamente fruibili perché il terreno era deteriorato. Abbiamo fatto una manutenzione profonda, l'abbiamo dipinta in maniera molto vivace, anche perché da sempre viene frequentato liberamente dai ragazzi di San Giovanni. Abbiamo deciso di organizzare un torneo, il 3 contro il re, una formula abbastanza semplice e gradita alle persone che trovano volentieri a basket e comincerà la settimana prossima. Sarà infatti la sera, il mercoledì, il giovedì, il giovedì, il venerdì, il sabato e il domenica. I lavori sono stati fatti dai volontari che collaborano con la Palagalli alla gestione di un corrigiatto. È venuto un bel lavoro e questa sarà la prima iniziativa che durante l'estate vedrà sia centri estivi che eventi organizzati dal circolo che è qui all'interno del centro di applicazione. Importante comunque anche il contributo dato dai volontari? Assolutamente sì, perché a parte comprare da parte nostra le materie prime, la vernice, i pennelli e quant'altro, il lavoro è stato fatto dai volontari che sono quelli che custodiscono e completano tutto. Per cui non è necessario anche l'interno dove si fa la serie B femminile, la serie B femminile, la serie B maschile di basket, ma anche la pallavolo, il patinaggio e anche il calcio a città. Questo è un centro ormai completamente utilizzato la mattina dalle scuole e il pomeriggio dalle società che con centinaia di ragazzi riescono a svolgere proficolamente allenamenti e partite.